Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignan. La statale 66 Pistoiese è chiusa in entrambe le direzioni all'altezza del chilometro 52 per un incidente, deviazioni segnalate sul posto. In Fipilì fino al 28 febbraio, per lavori al viadotto Stagno, chiusura della carreggiata all'altezza del chilometro 76 nel ramo di Livorno. In A1 in direzione Bologna, tratto chiuso per lavori tra Aglio e Roncobilaccio, provvedimento in vigore fino al 28 febbraio. Ricordiamo che a causa di una protesta sindacale, oggi fino alle 17 alcuni treni regionali potranno subire variazioni, cancellazioni o limitazioni. Restringimento di carreggiata a Firenze in via Bolognese nei pressi di Via della Pietra, senso unico alternato di tipo semaforico. Stasera per evento sportivo a Firenze, su disposizione della Questura, saranno istituiti in zona stadio provvedimenti riguardanti sosta e circolazione. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!